Alleluia, 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 guardate che bellissimo paesaggio qui nelle zone del Lago Maggiore, vicino alla città di Il Mino, ci sono dei bellissimi posti che Dio ci ha donato, questi posti il Signore li ha creati, alleluia, per la sua gloria. Siamo anche vicini al confine con la Svizzera, sono posti molto, molto belli, gloria a Dio, ti condivido questi bei paesaggi per la gloria del Signore, qui è bello per pregare, alleluia, per stare in comunione con il Re dei Re. Gesù spesso andava sul mare della Galilea, che era un lago, il lago di Genesaret, il lago della Galilea, ed è molto bello anche qui per poter pregare, stare in comunione con il Re dei Re. Guardate che dei posti, gloria, gloria, all'eterno, alleluia. Grazie a tutti.